Torniamo a parlarvi del delitto di Vertova, sostanzialmente è stata confermata la condanna a 22 anni e 6 mesi di reclusione per l'omicidio volontario e portobusivo d'arma e altri 3 mesi per il furto di documenti per Alin Diogu. Il senegalese già condannato in primo grado è ora giudicato dalla Corte d'Assise d'Appello di Brescia per l'omicidio di Maria Grazia Pezzoli. I giudici breciani di fatto hanno così respinto sia le richieste dell'accusa, ovvero Nergastolo, che quelle della difesa, l'assoluzione. Riconosciuto anche il diritto di risarcimento per il marito della vittima, Giuseppe Bernini, con questa sentenza è stata fissata una provvisionale di 80 mila euro.